Da febbraio 2021 oltre al 90% delle pratiche si faranno online. Cambio di residenza, dichiarazione etari, trasporto funebre, certificazioni storiche e stato civile, certificato di destinazione urbanistica, certificazioni di doneità alloggiattiva, IMU, anagrafe canina, manifestazioni ed eventi, accesso atti, sono alcune operazioni che il cittadino riuscirà ad effettuare grazie allo sportello telematico polifunzionale del Comune di Piacenza, presentato oggi alla chiesa dell'ex Carmine. Per agevolare le vite dei cittadini abbiamo pensato di digitalizzare 230 procedimenti che sono tutti impostati nello stesso modo e prendono per mano il cittadino e ti conducono alla fine del procedimento. L'accesso alla piattaforma potrà avvenire con le credenziali Speed, la nuova carta di identità digitale è divenuto ormai fondamentale nella vita di tutti i giorni. Il Comune tra poco infatti apparirà un punto Speed nella chiesa dell'ex Carmine. Oggi in Italia i cittadini che hanno aderito allo Speed sono 15 milioni, quindi un quarto dei cittadini. È poco, è poco perché nel giro di un anno o due praticamente il cittadino con Speed accede a tutti i servizi essenziali, IMS, fascicolo sanitario elettronico e per quanto riguarda il Comune di Piacenza i procedimenti necessari per il cittadino. Per avere maggiori dettagli sul nuovo sportello telematico che sarà operativo dal 1 febbraio 2021 si può consultare il sito www.comune.piacenza.it